C'era attesa per il tavolo tecnico convocato dalla soprintendenza sulla questione alberi di Pescara. Ambientalisti, amministrazione comunale, tecnici ed esperti si sono confrontati per mettere in chiaro le polemiche in corso. Prima di fare un'operazione, in questo caso esiziale, cioè l'abbattimento delle piante, si fa l'approfondimento strumentale. Come andate dal medico e prima di fare un'operazione al cervello uno fa l'attacco. Poi se la forestale sarà d'accordo invierà i propri tecnici che insieme con questo tavolo continuerà a lavorare e ripeto a fare gli approfondimenti strumentali. Si faranno a queste piante delle prove a trazione, delle tomografie, cioè si faranno proprio degli studi ulteriori per capire quelle che possono magari rimanere, essere controllate nei prossimi anni e invece quelle che effettivamente anche da un'analisi strumentale vengono da abbattere. A parlare oggi ci sono anche gli agronomi forestali che, stemperate le polemiche, ci tengono a chiarire più di un punto al contestato lavoro di uno dei loro rappresentanti, quello contro cui più di una volta hanno rivolto critiche gli ambientalisti. In condizioni come queste in cui sono presenti rivoltamenti delle ceppaie oppure presenza di patogeni o stroncature da neve o da piogge intense, comunque sia non fanno altro che supportare la relazione del nostro iscritto Rabbottini. A lui è stata commissionata una visuale speditiva e non una strumentale. La visuale speditiva vede tutto nell'ottica del cittadino, della città, dei pericoli. La strumentale è nell'ottica dell'albero e che si fa più che altro non in un'alberatura, ma si può fare in un parco pubblico con alberi di una certa consistenza dove non c'è pericolo imminente. Quindi quella di Rabbottini è stata una relazione ampiamente valida.